Sul cammino dell'Avellino dopo la vittoria di Picerno, la pergolettese è definito il quadro relativo alle semifinali della Pool Scudetto di fronte ai bianco-verdi che sognano il tricolore. Ci sarà quindi la squadra guidata da Matteo Contini, che non sarà però l'unico ex di turno del match. Infatti tra le fila dei gialloblu ci sono anche il difensore Alessandro Fabbro, che Corrastelli nel 2013 conquistò la B, ed il centrocampista Michael Panatti. L'incontro si giocherà alle 18.30 di venerdì 31 maggio, ma lo stadio al momento è ancora da definire. La squadra di Crema nella sua lunga storia ha cambiato ben sei volte denominazione, assumendo nel corso degli anni anche il nome di unione sportiva Crema-Pergo dal 1994 al 2002. Come l'Avellino ha conquistato l'ACI dopo uno spareggio, uno spettacolare testa a testa in campionato contro il Modena. I Lombardi si sono qualificati nella Pool Scudetto come migliore seconda alle spalle del Cesena con tre punti conquistati. Hanno chiuso il loro girone di campionato con 73 punti, 22 vittorie, 7 pareggi e 5 sconfitte, 62 gol fatti e 32 subiti. Migliori marcatori in campionato, Ochiere e Franchi con 11 reti. Chi passa accede alla finale in programma il 2 giugno.